Tanta creatività e ingredienti insoliti. Radici, rabarbaro e manzo. Santo cielo. Per piatti decisamente fuori dall'ordinario. Ananas sgrocchiarelli. Già, sembrano ricoperte di vomito. Purtroppo per gli chef Anne Bo è giunto il momento di assaggiarli. No! No! Merda. Sembra che gli piaccia. I peggiori cuochi d'America, una nuova serie. Ogni giovedì alle 22.10 su Travel & Living. Grazie a tutti.